Era in preventivo perché poi alla fine è vero che loro hanno questa classifica, ma è anche vero che hanno giocatori di categoria, giocatori che hanno fatto altre categorie. L'atteggiamento della squadra secondo me è stato giusto, la qualità nella gestione della palla del primo tempo non mi ha soddisfatto, abbiamo sbagliato tanto e probabilmente ci siamo mossi anche non molto bene. Però che vero abbiamo fatto un'ottima fase difensiva anche nel primo tempo, cercando di sporcare le giocate, cercando di essere aggressivi e questa è stata la nostra forza per rischiare poco. Poi il gol ad inizio secondo tempo ci siamo un pochino liberati, ci siamo un pochino secondo me sciolti e abbiamo aggiunto un po' di qualità, abbiamo avuto occasioni per provare a chiuderla senza rischiare praticamente nulla se non per la punizione finale. Però la squadra comincia ad avere consapevolezza, le partite sono tutte difficili, abbiamo un'identità, abbiamo forza, magari in alcune partite siamo stati più belli di oggi, ma l'importante era venire qua a fare tre punti e ci siamo riusciti. Quindi complimenti che tu hai fatto a me, io li giro ai ragazzi perché poi il merito è loro, sono loro che vanno in campo e è giusto si prendono i complimenti. No, anche perché il Presidente Svedoni ve l'aveva chiesto, aveva detto regalatemi questi tre punti che sono in un momento un po' complicato. Il Presidente è una persona meravigliosa e voi lo conoscete sicuramente da più tempo di me, è una persona che merita tante soddisfazioni e siamo dispiaciutissimi per l'accaduto. Speriamo che si rimetta presto, che riesca a fare un Natale sereno e la vittoria ovviamente è per lui perché ci sta vicino, perché ci incoraggia il primo nostro tifoso e quindi è bene che abbiamo vinto e tutti quanti lo dedichiamo a lui.